diane mello ci ha preso gusto dopo la conclusione del grande fratello vip 5 il suo quarto posto finale la top model brasiliana continua a interversare sui social con foto e video super sexy sul suo profilo instagram dove può contare su uno milione di follower l'ultima pubblicata la vede a bordo piscina con bichini che esalta il suo fisico davvero mozzafiato e l'immagine infatti non lascia indifferenti i fan con valanga di like e commenti di entusiasmo tra questi c'è pure quello di rosalinda cannavo su instagram ancora con il nome d'arte aduadelvesco che commenta in brasiliano sei molto bella con tanti di emoticon di cuori insomma pace fatta tra le due non è dato sapere se le due grandi amiche durante il reality siano tornate in ottimi rapporti dopo il gelo nel finale della loro esperienza all'interno della casa di certo le parole al miele di rosalinda almeno sui social fanno sì che la strada intrapresa sia quella giusta quel che è certo eppure che daiane va avanti per la sua strada in piena libertà poche parole e tante foto sexy